ciao a tutti allora se avete un secondo libero e ce l'avete date un'occhiata a questa pagina qui rivoluzione familiare è una campagna che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza di poter estendere la l'adozione a coppie lgbt oa persone single di qualunque orientamento sessuale io credo che sia una iniziativa molto importante perché non ci dimentichiamo una cosa la cosa più importante per un bambino è crescere grazie all'amore delle persone che gli sono accanto qualunque sia il contesto genitoriale quindi apriamo il cuore e soprattutto la mente rivoluzione familiare